Da domani, giovedì 12 marzo, temporaneamente l'Avis Comunale di Siracusa chiuderà il punto di raccolta sangue del centro trasfusionale dell'Aspe 8 dell'ospedale Umberto I. E tutta l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti si svolgerà presso la sede dell'Avis Comunale di Siracusa di via Von Platen 40, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Il tutto quindi prosegue, ma sarà concentrato in via Von Platen, l'edificio di nuova costruzione con ampi spazi e una sala di attesa che assicura ai donatori la privacy prevista nella fase di compilazione del questionario, dotata di una sala specifica per il medico e infine la sala donazione realizzata seguendo gli standard più elevati previsti per l'accreditamento. La sede ha infine un'area ristoro dove il donatore rimane nel quarto d'ora successivo alla donazione per restare sotto controllo medico nei momenti successivi al prelievo. L'Avis Comunale di Siracusa continua a sottolineare l'importanza, soprattutto in questi giorni di emergenza, di continuare a donare il sangue se si è in buona salute. Ricorda inoltre che non si applica l'obbligo di permanenza domiciliare per tutti i donatori di sangue che si recheranno presso la sede dell'Avis Comunale di Siracusa o che stanno rientrando a casa dopo aver fatto la donazione e che ad ogni donazione verrà consegnato loro l'atto di dichiarazione formale dove verrà indicato il motivo dello spostamento dal proprio domicilio che varrà come giustificazione. In questi giorni di emergenza invita tutti i suoi donatori a ricorrere alla chiamata con vocazione programmata e quindi di prenotare la propria donazione anticipatamente al fine di regolare e scaglionare il numero di accessi al numero 0931 46 2019. Grazie a tutti.